A Trapani sequestrate armi e 3,5 kg di cocaina, 6 arresti, i carabinieri hanno trovato anche 120.000 euro in contanti. La Guardia di Finanza di Caltanissette ha sequestrato 12.000 articoli e gadget non sicuri dedicati ad Halloween. All'Ars ha approvata la nuova legge sulla casa che consentirà ai cittadini siciliani di usufruire degli stessi benefici di legge previsti nel resto del paese. Esondazione Salso, Lega Coop Sicilia e Lega Coop Agroalimentare Sicilia chiedono alle istituzioni di passare dalle parole ai fatti. Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria, il docufilm prodotto da Telewan, continua il suo fortunato viaggio per le città italiane. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Medianews. Apriamo con la cronaca. A Trapani sequestrate armi e tre chili e mezzo di cocaina. Sei arresti. I carabinieri hanno trovato anche 120.000 euro in contanti. Lo stupefacente immesso nel mercato avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e di armi clandestine, i carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato sei persone, un cinquantenne, due trentasettenni, un trentaseienne e un diciottenne di Trapani, nonché un cinquantenne calabrese. Il blitz è scattato nei pressi di un'attività commerciale del quartiere di Villa Rosina, dove uno degli arrestati in passato gestiva un negozio di ortofrutta. Uno dei presenti, più giovane, durante i controlli ha cercato di gettare tre buste in cellophane lanciandole poco lontano. Il gesto non è passato inosservato. I militari hanno recuperato i pacchi e trovato circa un chilo e mezzo di cocaina. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate al calabrese altre tre buste in cellophane contenenti la somma contante di 22.000 euro. In casa degli arrestati sono state trovate due pistole calibro 7,65 con matricola brasa, circa 150 cartucce allo stesso calibro, un bilancino di precisione in una cantina e altri due involucri di cellophane con due chili di cocaina. A casa del diciottenne la somma di 100.000 euro in contante e un bilancino di precisione. La droga è messa al mercato, al taglio avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Il GIP per 5 ha disposto gli arresti in carcere, per il diciottenne incensurato gli arresti domiciliati. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 12.000 articoli e gadget non sicuri dedicati ad Halloween. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta nell'ambito dell'azione di contrasto ai traffici illeciti hanno sequestrato oltre 12.000 articoli non sicuri pronti per essere immessi sul mercato in occasione della ricorrenza di Halloween. L'operazione condotta dalle fiemme gialle del gruppo di Caltanissetta effettuata in due esercizi commerciali gestiti da soggetti stranieri previ a ispezione della merce esposta ha consentito di rinvenire numerosi prodotti come decorazioni, materiale di cancelleria e gadget ispirati ad Halloween, privi del marchio C e quindi non idonei al commercio secondo i dettami del codice del consumo. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l'uso delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e alle origini dei prodotti ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni fino a 25.000 euro. Sono stati inoltre rinvenuti numerosi articoli recanti il marchio Made in Italy contraffatto, anch'essi sottoposti a sequestro e sorpresi due lavoratori in nero per le cui violazioni sarà interessato il competente ispettorato del lavoro. L'operazione di servizio condotta dalla Guardia di Finanza conferma l'impegno del corpo nell'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni della vendita e distribuzione di prodotti non conformi e non sicuri a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali. E ora la politica all'Ars approvata la nuova legge sulla casa che consentirà ai cittadini siciliani di usufruire degli stessi benefici della legge previsti nel resto del paese. Con la nuova legge sulla casa approvata all'Ars si sono allineate le norme di gestione del territorio alle nuove regole in materia introdotte a livello nazionale dal governo di Giorgia Meloni. Da oggi, grazie al contributo costruttivo e determinante di Fratelli d'Italia e dell'assessore Giussi Saverino, i cittadini siciliani godranno degli stessi benefici di legge previsti nel resto del paese. Questo provvedimento razionalizza e semplifica una materia, quella dell'edilizia, che interessa migliaia di famiglie. Con il recepimento da parte della regione siciliana della salva casa nazionale, vengono introdotte una serie di misure che regolarizzano alcune difformità, sbloccando il mercato immobiliare. Si innesca così un circolo virtuoso che non soltanto consentirà ai cittadini di sanare alcune irregolarità, ma porterà alle casse dei comuni nuovi introiti da impiegare sul territorio. Dimensionamento scolastico, salari troppo bassi, sovraccarico di lavoro del personale ATA, precarietà, dispersione scolastica, povertà educativa, spopolamento delle aree interne. Sono queste le principali motivazioni dello sciopero nazionale indetto dalla FLCCGL nazionale per oggi per tutto il personale del comparto istruzione e ricerca. Anche a Palermo si tinne davanti la sede della prefettura. Sciopero! 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 Noi siamo in piazza perché questo è un paese che non vuole investire sul futuro. Perché quando si tagliano gli organici della scuola, quando siamo giunti al punto che siamo arrivati a 250 mila precari, quando siamo arrivati al punto che si fa un taglio lineare dei ministeri del 5% delle risorse che impatteranno significativamente sui servizi, quando non si investe sull'istruzione, sulla formazione, sull'università, sulla cultura, sulla ricerca e quando soprattutto si propone un rinnovo contrattuale in cui a fronte di un'inflazione del 17%, si propone appunto un rinnovo al 5-7%, quindi con una perdita di potere d'acquisto per gli insegnanti, per tutti i lavoratori e lavoratrici del mondo della scuola, appare al 12%, significa che non si vuole davvero investire sul futuro di questo nostro paese. Siamo qui per ribadire il nostro no alle scelte politiche di questo governo e del ministro Valditara rispetto al sistema di istruzione del nostro paese, perché abbiamo delle forti criticità che sono caratterizzate da una serie di elementi che sono per esempio l'emergenza salariale, c'è il problema legato al dimensionamento scolastico, il precariato che è fortissimo in Italia, parliamo di circa 250 mila precari, c'è il problema dell'autonomia differenziata, insomma tutta una serie di criticità che hanno una valenza di carattere nazionale. Una chiamata collettiva per rivendicare i diritti? Una chiamata collettiva è una chiamata per questo paese, noi oggi scioperiamo perché questa manovra di bilancio non solo non ci soddisfa ma manda indietro il paese, i lavoratori viene tagliato il salario del 12% perché gli stanziamenti che fa il governo incrementano solo il 6% il loro salario a fronte di un'inflazione nell'ultimo triennio del 18%, quindi di fatto si traduce in un taglio dei salari. Poi scioperiamo perché il governo taglia gli organici alla scuola, meno 5.600 docenti e 2.000 persone alleate, quindi aggrava le condizioni delle scuole e scioperiamo anche perché il rinnovo del contratto è un diritto del lavoratore e con queste risorse non ci sono le condizioni per rinnovare il contratto. Siamo qui e abbiamo scioperato oggi convintamente perché intanto abbiamo la scuola pubblica statale, per dire no all'autonomia differenziata che ci taglia, ci taglia maggiormente, ci mette fuori e per dire no ancora all'aumento dei precari perché ci sono tantissimi precari che verranno tagliati e messi fuori dalla scuola. La scuola statale ha bisogno di tante cose e invece cosa ci troviamo? Troviamo il dimensionamento che peggiora la situazione delle scuole, che aumenta i carichi di lavoro, le segreterie, i dirigenti, gli insegnanti, aumentano le problematiche dei nostri alunni ma non troviamo da parte di questo governo le soluzioni, troviamo solo tagli. Questo sit-in è per tutti i lavoratori e noi perché siamo molto seccati che la nostra dignità lavorativa è stata attaccata dal governo e dagli organi anche politici di Palermo. Nel senso intendo dire ambiti, IMS, perché questo lavoro di passo noi stiamo lottando per evitare che le scuole abbiano sovraccariche e soprattutto il lavoro delle pensioni dei dipendenti della scuola. E sondazione salso, LegaCop Sicilia e LegaCop Agroalimentare Sicilia chiedono alle istituzioni di passare dalle parole ai fatti. Sentiamo. LegaCop Agroalimentare Pesca Sicilia e LegaCop Sicilia raccolgono il grido di dolore dei pescatori licatesi, duramente colpiti dall'esondazione del fiume salso avvenuta dieci giorni fa. La situazione è ancora drammatica e le conseguenze si fanno sentire non solo nel comparto agricolo ma anche nel settore della pesca. Domenico Pistone, responsabile regionale di LegaCop Agroalimentare Sicilia, ha dichiarato gli sversamenti di detriti in mare conseguenti all'esondazione hanno bloccato le attività di pesca. Le imbarcazioni della piccola pesca hanno subito danni significativi alle reti a causa degli arbusti e del materiale finito nei fondali. L'enorme quantità di rifiuti naturali e artificiali riversati dal fiume sulla costa continua a compromettere la regolare attività di pesca causando danni ingenti alle attrezzature e alle imbarcazioni che si trovano a dover aspirare rifiuti di ogni genere. LegaCop Agroalimentare si fa portavoce delle istanze della marineria licatese e auspica che gli aiuti promessi arrivino al più presto. È essenziale affrontare questa emergenza per evitare un indebolimento drammatico del settore della pesca a Licata. Nei prossimi giorni LegaCop incontrerà i pescatori licatesi per condividere azioni di sensibilizzazione e intervento richiedendo con urgenza l'intervento del Governo della Regione. Nei momenti di crisi come questo la cooperazione fondata sull'aggregazione e sul mutualismo può rappresentare uno straordinario strumento di sostegno e aiuto. Emergenza, acqua e rifiuti, disagi e costi per il consumatore e come superarli? Questo è il tema del convegno organizzato da Feder Consumatori alla Sala delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo. Ascoltiamo Giuseppe Lubello, presidente di Feder Consumatori Palermo. Il tema che affrontiamo è complesso per ognuno dei due settori, acqua e rifiuti. Proverò in questa relazione a tracciare alcune linee qui, raffidando poi alle tavole rotonde che seguiranno un approfondimento tecnico e più di merito sia sull'emergenza acqua che su quella dei rifiuti che assidono i cittadini consumatori utenti di Palermo e provincia. Oggi siamo qui a Villa Niscemi, un congresso organizzato da Feder Consumatori Palermo per parlare di emergenza acqua, emergenza rifiuti, i costi, i danni e tutto quello che ne può conseguire. Quindi qual è il vostro obiettivo? Noi abbiamo fatto nostro il disagio dei consumatori e quindi sia per l'acqua che per i rifiuti. Questa è una grande città che merita il rispetto e abbiamo bisogno che questa città entri per efficienza, per qualità dei servizi, per possibilità di sviluppo alla pari con altre città metropolitane d'Italia. Quindi occorre una cultura della ricerca, anche dell'economia circolare. Serve fare in modo che la città abbia le strade pulite e abbia l'acqua garantita tutti i giorni come attraverso il riuso, attraverso la raccolta differenziata, ma soprattutto vorremmo che abbattessimo i costi. I costi sono alti rispetto ad altre città d'Italia, questi costi si possono contenere, si possono abbattere se noi acquisiamo una cultura dell'efficienza delle aziende, gestrice, in questo caso l'Amaf e il Rapp, e fare in modo che queste aziende, attraverso la cultura dell'efficienza e della produttività, possano garantire il servizio di qualità a minor costi. Falcone Borsellino, il fuoco della memoria, il docufilm prodotto da Tele One, continua il suo fortunato viaggio per le città italiane da Verona alla Sicilia, numeri da record, dalle produzioni, presenti istituzioni, società civile, ma soprattutto studenti, quasi 2000 in poco più di una settimana, e sono ancora tanti gli appuntamenti in calendario per i prossimi mesi. Numeri record per il docufilm Falcone Borsellino, il fuoco della memoria, prodotto da Tele One, coprodotto da Biondani TMG, Digital Identity e PSC Project Smart Communication. La pellicola, commissionata dall'Università di Palermo, spopola negli ambienti più diversi e tocca numeri record, soprattutto tra gli studenti. Da Verona alla Sicilia, quasi 2000 ragazzi, in poco più di una settimana, hanno visto e commentato il docufilm sui due magistrati siciliani uccisi da Cosa Nostra. Nella sola Verona, il coproduttore TMG Biondani ha raccolto attorno alla pellicola quasi 800 studenti, il sindaco e i rappresentanti della società civile, in una due giorni dedicata al docufilm. Sono state due giorni molto emozionanti, il 29 e il 30. Il 29 è la serata dedicata alle istituzioni e al popolo veronese, mentre per quanto riguarda il 30 i ragazzi. Nella prima serata c'erano istituzioni che appunto riguardavano guardie di finanza, carabinieri e la presenza anche del sindaco. Tra il pubblico però c'erano anche tanti ragazzi che hanno voluto approfondire loro stessi magari non invitati nella giornata del 30. Il 30 invece è stata la giornata dedicata assolutamente solo ai ragazzi, per una giornata che abbiamo organizzato in un cinema, il cinema della scuola Le Stimate, in cui erano presenti 400 ragazzi di scuole medie e superiori, tra la seconda e la terza media e la prima e la seconda superiore. In totale abbiamo fatto un calcolo che questo docufilm è stato visto appunto tra circa 800 ragazzi. Biondani, lei è coproduttore di questo film, perché ha scelto in una parola di dire sì e contribuire a coprodurre il film su Falcone e Borsellino? Lei da Veronese? Da Veronese, da Impresa Edile Costruzioni, che sembra strano che appunto possa aver partecipato a questo progetto, perché bisogna costruire qualcosa nel sociale. Questo film sicuramente aiuta a mandare un messaggio al civico, ai ragazzi, e per me è stato il motivo per cui ho voluto partecipare a questo progetto. Per noi dall'Università di Palermo, la partenza del docufilm Falcone e Borsellino, è stata una grande sorpresa, una grande gioia, perché nel giro di pochissimi giorni i documentari sono stati trasmessi sia a nord e a sud Italia, qua a Palermo è stato trasmesso al liceo Gonzaga, anche a Enne è stato trasmesso all'Università del Coro e con la partecipazione degli studenti del liceo Colaianni. Più di 15.000 persone hanno sentito all'inizio al Falcone e Borsellino con una grande partecipazione, grandi domande a non finire. in medesimazione e di tanta voglia di raccontare questa storia, che forse fino adesso era mancata. Era qualcosa che mancava nel panorama scientifico e anche della nostra cultura italiana e finalmente è venuto fuori. Siamo particolarmente felici e contenti del successo che sta avendo in pochissimo tempo. Speriamo e siamo sicuri che nei prossimi giorni questa proiezione e questo successo continuerà. La Sicilia è stata la prima regione in Italia a costruire la rete per la cura dell'epatocarcinoma con i centri AB e SPOC. Sono circa 150 i pazienti seguiti in un anno dal centro di gastroenterologia del Policlinico di Palermo, mentre i casi discussi dal team sono 180-15-20 giorni i tempi per la diagnosi. Tumori del fegato. Per fare il punto sui percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dell'epatocarcinoma, il Policlinico di Palermo ha promosso un toll show epatocarcinoma, prevenzione e cura, che si è tenuto ieri nel salone di Villa Malfitano di Palermo. Un treguardo scientifico, ma soprattutto un'importante ricaduta in termini di equità di cura e di assistenza per tutti i siciliani. Considerare il percorso dalla prevenzione alla diagnosi precoce e poi ovviamente alla cura, significa dare ai nostri concittadini una risposta importante. È ovvio che in questo dobbiamo ringraziare il contributo degli organi di informazione, perché senza di loro tutto ciò che è prevenzione difficilmente abbiamo modo di poterla portare a tutti quanti. Intendo dire con questo che i principi fondanti di un buono stato di salute sono quelli di un corretto stile di vita e di una buona alimentazione, di un'alimentazione sana, dove gli eccessi di alcol o di altre sostanze che in qualche modo possono danneggiare il funzionamento del fegato sono sicuramente importanti. Dalla Sicilia a una scuola di gastroenterologia che inizia da Luigi Pagliaro. Noi stiamo cercando di continuare l'eredità di Luigi Pagliaro e stando ai risultati, stando ai numeri, spero, credo che ci stiamo riuscendo. Abbiamo specializzanti che dal nord Italia vengono a specializzarsi a Palermo e poi abbiamo dei giovani professori associati che sono tra i primi in Europa sulla malattia economica del fegato e sulla gastroenterologia e di questo siamo orgogliosi. Grazie a questo genere di interazione tra centri di riferimento e centri periferici ogni paziente, indipendentemente dalla sede di partenza, può avere ogni opzione terapeutica disponibile e è possibile fare confronti non soltanto al momento della diagnosi ma anche nei vari momenti della storia di questa patologia che purtroppo è caratterizzata anche al fatto che ci sono un elevato numero di recidive dopo i trattamenti anche radicali quindi necessità di ritrattamenti e quindi di rivalutazione di volta in volta di processi diagnostici e terapeutici già per il singolo paziente. Noi siamo veramente un fiore all'occhiello italiano per quanto riguarda proprio la gastroenterologia e le malattie di fegato. Abbiamo una scuola di specializzazione molto attrattiva è l'unica scuola di specializzazione in gastroenterologia peraltro in regione che attira diversi specializzanti per cui abbiamo un numero di specializzanti anche piuttosto alto rispetto alle altre regioni. Le reti sono proprio uno strumento di innovazione, di equità e anche di equilibrio tra quelle che sono le tecnologie e le risposte giuste da dare ai pazienti e le economie quindi diciamo i debiti e le spese. Ha dato la possibilità in questo modo di dare a tutte le persone del territorio siciliano dalla persona più lontana dal piccolo paese alla persona che vive nella città nell'area metropolitana di dare a tutti la possibilità di accedere alle terapie più sofisticate e più innovative. E cambiamo decisamente argomento alla Sala degli Specchi a Villa Palagonia a Bagheria domani in scena la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascani. Domani ottantesimo concerto dell'ottava stagione concertistica Città di Bagheria alla Sala degli Specchi di Villa Palagonia in scena la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascani ad interpretare Santuzza il soprano Susanna Lafiura Antonino Interisano Saratturiddu Enzo Licata Alfio Anna Giulia Anselmo Lola e Alessia Sparacio Mamma Lucia due i narratori Roberto Tedesco e Marco Tinnirello il coro è il laudate dominum di Bagheria Francesco Allegra il maestro accompagnatore. Mi trovo nella bellissima Sala degli Specchi di Villa Palagonia ci stiamo preparando ad accogliere questo stupendo concerto sulla Cavalleria Rusticana l'ottantesimo concerto dell'ottava stagione concertistica Città di Bagheria per noi è un momento molto importante perché stiamo per concludere questo ottavo anno in maniera straordinaria dove abbiamo visto la presenza di migliaia e migliaia di spettatori e vogliamo dare omaggio alla nostra città dopo aver dato omaggio a Mordicone e Giuseppe Tornatora con musicine ma musiche da film con questo concerto sulla Cavalleria Rusticana in forma diciamo concertistica non scenica ovviamente che si terrà in questa stupenda Sala degli Specchi di Villa Palagonia ci sarà presente oltre agli interpreti che appunto sono stati già citati nel servizio ovviamente anche il coro Laudate Dominum di Bagheria e voglio sottolinearlo perché l'associazione Bequadro è l'associazione dei soci cantori del coro Laudate Dominum di Bagheria quindi il nostro appuntamento è il primo novembre alle 19 Sala degli Specchi di Villa Palagonia Continua anche domani l'appuntamento con la Notte di Zucchero Festa dei Morti Pupi e Grattuge organizzato dall'associazione Notte di Zucchero per raccontare la festa dei morti tra le più antiche tradizioni iniziamo con una grandissima parata con tantissime bande della provincia di Palermo e di Palermo Roccamena Valle d'Olmo Ventimiglia di Sicilia le due bande di Palermo e quest'anno si aggiungono anche i gruppi folk cioè il Mastro di Campo di Mezzo Iuso con la sua maschera rossa camminerà con i suoi banditi tirerà delle caramelle i costumi di Piana degli Albanesi dieci ragazzi donne uomini i sbandieratori di Caccamo e un'annucananna di Termini Merese si partirà dalle dieci si raggiungerà il Politeama Piazza Politeama dove 300 ballerini di 13 scuole di danza grazie a Palermo in danza balleranno tutte insieme una grandissima immensa tarantella io direi da Guinness deprimati e dopodiché le bande continueranno il loro percorso di suoni e arriveremo alla scalinata del Teatro Massimo dove Nunzi Ortolano come ogni anno ci regalerà una musica che tutte le bande insieme suoneranno all'interno del Politeama intanto ci saranno una miriade di laboratori Zazu le bolle di Agata e anche quest'anno Artigianando ci ha regalato i suoi laboratori di pasticceria come si dipinge un pupo e tutti i bambini potranno giocare con noi alle 4 alle 16 ci sarà Coco Coco dello Sdias dello Smerto si è portato dalla putia dai ragazzi della putia di Malvina Franco di Santina Franco la regia di Santina Franco e anche ci saranno due interpreti nella lingua dei segni alle 19.30 si aprono i palchetti del Teatro Politeama dopodiché facciamo quest'anno un omaggio un omaggio al grandissimo Maurizio Bologna che ci ha lasciati riproponiamo il pezzo che è stato mandato alla Palazzo dei Normanni lo riproponiamo all'interno del Politeama e Serena Ganci insieme ai ragazzi della scuola del Biondo ci regalerà Quannumoru di Rosa Balistretti Tutte le sfumature dell'azzurro questo è il titolo della nostra fotografica itinerante che arriva a Palermo organizzata dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia per il 75esimo anniversario della fondazione Questa come vedete è una mostra che coglie tanti momenti di gioia di dolore di vittoria di sconfitta ma anche di solidarietà di inclusione e sull'inclusione noi è uno dei grandi valori dello sport e quindi abbiamo sono arrivate circa 300 foto da queste una giuria estremamente qualificata che ha visto la partecipazione di un po' tutti quelli che possono essere relazionisti di questa mostra vale a dire un grande fotografo come Gianmarco Chierigato abbiamo voluto che la valutazione vedesse tutti gli aspetti dei valori della maglia azzurra che noi vogliamo trasmettere e quindi vedete atleti paralimpici atleti olimpici foto d'epoca comunque diciamo che è ben raccontata è una mostra che sta girando in Italia è stata al Palazzo della Regione a Firenze all'Accademia Linguistica delle Belle Arti a Genova alla provincia a Savona al Comune durante la Barcolana a Trieste a un Palazzo Storico a Udine e via dicendo insomma devo dire è sempre stata ospitata in maniera estremamente importante le emozioni che può dare uno sport una vittoria ma anche una sconfitta perché senza le sconfitte non si cresce quindi lo sport è promotore è messaggero di questa di questa filosofia cioè non bisogna mai rendersi nelle sconfitte e digerire anche dal punto di vista psicologico sia le sconfitte che le vittorie perché anche le vittorie a volte possono fare male perché pensi di aver raggiunto il limite il culmine della tua carriera con una grande vittoria e poi devi chiedere sempre molto a te stesso e i sacrifici sono veramente tantissimi una splendida mostra itinerante che racconta emozioni azzurre in un luogo suggestivo nel cuore di Palermo un binomio sport e cultura che è un binomio che sta dietro ai valori positivi di inclusione di coinvolgimento di partecipazione come molti di questi scatti possono dimostrare e ora passiamo alle notizie sul calcio tifosi rosa nero delusi dopo il pareggio in casa del Mantova ma decisi nel continuare a sostenere la squadra allenata da Dionisi diciamo che la partita all'inizio secondo me per il Palermo doveva ingranare un po' di più ho visto all'inizio un Palermo un po' contratto diciamo all'inizio poi piano piano è uscito ho avuto qualche occasione soprattutto nel secondo tempo abbiamo dato di più ecco sono state occasioni importanti non sfruttate però per il Mantova ha fatto la sua partita alla fine il Mantova è questo il Palermo ha cercato di dimostrare ugualmente la forza però ci voleva che qualcuno sbloccasse magari individualmente questa partita vedremo la prossima occasione comunque un pareggio è già un punto importante si vuole un po' di più ecco forza Palermo arriviamo a vincere siamo venuti qua per vedere una vittoria però non è andata potevamo essere più cattivi più incisivi peccato peccato però l'importante un pari va bene non abbiamo perso siamo un pochettino delusi ma più che altro per il freddo che abbiamo preso comunque rimaniamo sempre speranzosi perché il tifoso palermitano che vive fuori è sempre speranzoso ma romai manteniamo fede ai colori e la squadra anche da questa situazione non rimaniamo sempre fedele ai colori questo è l'importanza e col calcio si chiude questa edizione del nostro TG io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto grazie a tutti